che dirvi questo è un appello un appello per gli amanti degli animali mentre viaggiamo mi è venuta in mente un'altra cosa non è tutto oro ciò che luciga qua in albania allora qui c'è un problema reale e tangibile sul randagismo infatti assieme ad altre persone qua si sta cercando di fare qualcosa per questi animali abbandonati soprattutto cagnolini cani ho assistito veramente brutte scene e parecchie volte si trovano i resti dei cani quindi c'è questo problema e nel caso tu sei una persona che ama gli animali come lo sono io c'è da lavorare c'è da le ragazze che sono venute qua tra l'altro da me con la quale abbiamo parlato loro aiutano queste associazioni magari tenendo i cani prima di un adozione i cani sono per la maggior parte vaccinati hanno tutti il simbolo del vaccino sul sull'orecchio c'è una struttura privata quindi non è a livello statale quindi non è sovvezionata con fondi statali ma è una donna eccezionale che ha aperto a questa struttura per poter aiutare i piccoli randaggi questo è un problema che c'è quindi qualora tu sei un amante degli animali dei cani soprattutto perché è questa la tipologia di animale randaggio che si va qua potrebbe essere interessante che tu venga qua e insieme si possa fare qualcosa per aiutare gli animali che dirvi questo è un appello un appello per gli amanti degli animali qui c'è da lavorare grazie